Eccoci qua, buona mattina da Sold Out, senti come lo dico bene oggi Alan? Oggi proprio a voce piena, c'è il sole fuori, sai che in realtà venendo su con l'autobus c'era molto più sole, molto più celeste di quello che mi aspettavo, dicevano pioggia catinelle invece almeno quando sono arrivato su tutto sommato un minimo di parvenza di chiaro c'era, poi adesso magari nel frattempo sta diluviando però me l'aspettavo peggio insomma questa giornata. Bene, come ogni venerdì apriamo questa puntata con le previsioni meteorologiche di Teste Provincia. Poi nel pomeriggio cosa fai Alan? Dai racconta un po' Il pomeriggio tra lavorare e mettere a porzo scatoloni sarà divertente. E come ben sa tutto il nostro pubblico Alan si è appena trasferito, ha comprato casa nuova e quindi c'è tanto, tanto, tanto ancora da fare. Sì, abbastanza. Nel frattempo noi cominciamo perché abbiamo una giornata, una puntata ricchia, ricchissima di cose da raccontare e si parte con una lietissima ritorno a quanto pare, nel senso che prima della puntata abbiamo raccontato un po' di quello che sono stati alcuni momenti qui a Radio Fragola anche del presidente dell'associazione Amici della Contrada, Daniela Gattorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori, i fragolini, i fragolette. Vedi, vedi. E buongiorno a voi e grazie per questo invito. Allora, sei qui appunto per parlarci di questa rassegna che ormai a che edizione siete arrivati? La ventitraesima. Mamma mia. Sì, ormai siamo oltre che maggiorenni e anch'io inizio ad essere, insomma… No, tu hai iniziato che avevi otto anni, giusto? Quindi, di conseguenza, facendo due calcoli… Beh, non è così distante la verità. Io ho iniziato veramente giovanissima a lavorare, a vivere nel mondo dello spettacolo perché, non so se sapete, ma io provengo dal mondo del circo dove io ho vissuto per tanti anni. E poi, grazie al circo, alla danza, al mio amore così per le arti sceniche, sono approdata a Trieste e al fin, in età ormai matura, presidente di questa associazione molto bella, un'associazione culturale, che collabora strettamente con il teatro La Contrada di Trieste. Allora, prima di parlare della stagione, del debutto di lunedì e tutto quanto, ci racconti un po', appunto, com'è l'associazione, com'è organizzata? Poi le parti tecniche, come al solito, abbiamo… tu hai la fortuna di avere Alan Viezzoli qui, che oltre ad essere un grande enigmista, che è la sua professione vera… Allora, condividiamo questa passione. Ahia, tu probabilmente, parole crociate… La settimana enigmistica, sono proprio una classicona. Benissimo, benissimo. Tante cose, probabilmente leggerai il nomino Alan Viezzoli ed è lui che le fa direttamente. Sulla settimana? Anche qualcosina, non tanto di crociverba, sulla settimana sono più sui rebus. C'è un rebus mio sulla pagina 45 di questa settimana, se volete. Uhlala. Faccio così, mi faccio dell'autopromozione in diretta o così a caso. Adesso ti guarderò con altri occhi. Bene. Però sì, insomma… No, ma poi lui scrive per altre centomila riviste, nel senso che… Sì, sì, immagino. Fa tipo 3-4 crociverba al giorno, nel senso che non è che li fa, nel senso che… No, no, li crea, li crea, per cui c'è… Che bravo. No, no, è uno dei miei passatempi così di relax. Ah, benissimo. Quindi dicevo, enigmista da una parte, critico cinematografico, perché il suo ruolo qui in radio, come in altre radio, diciamoci, la verità, è quello di critico cinematografico, però per noi, per l'occasione, farà tutti gli annunci, quelli che noi non vogliamo fare, li farà lui. Istituzionali. Gli istituzionali sono a suo carico. Molto bene, grazie Alan. La parte è burrotratica. Allora, parliamo un po' dell'associazione. Come nasce, come si sviluppa? Questa associazione, appunto, associazione Amici della Contrada, nasce per la volontà di due grandi registri, Mario Licalsi, che poi ha collaborato, anzi, era uno dei registri di punta di Radio 1, Radio Rai, e Francesco Macedonio, che era uno dei fondatori della Contrada, insieme a Orazio Bobbio, Ariel Areggio e gli altri dodici mitici fondatori della Contrada. I due registri hanno iniziato a proporre dei testi alla moda, diciamo, della radio, dei radiosceneggiati. Quindi dando una grande importanza al testo stesso, alla parola, appunto, e levando tutto quello che concerne il movimento scenico, la messa in scena. Perché credevano molto nella forza della parola. E in realtà i testi scelti per la nostra rassegna sono sempre testi molto forti, testi scritti da drammaturgi importanti. E che non sempre si riescono a portare in scena per tanti motivi. Anche produttivi, in certi casi. Esatto, soprattutto produttivi. Ecco, diciamo. La verità è questa, noi, cioè il teatro sostiene, insomma, per una messa in scena, per una produzione, sostiene spese un pochettino pesanti. E che non sempre possiamo offrire sei titoloni in una stagione. Chiaro. Invece l'associazione riesce a proporre al pubblico, abbonati della Contrada e no, questi titoli, questi momenti di letture sceniche, che poi nel tempo, in realtà, per anche il gusto dei vari registi che si sono succeduti, tra l'altro nomi anche importanti, Marisandra Calaccione, Lidia Kozlovich, Massimo Somaglino, Maurizio Zacchini stesso, insomma, tantissimi registi si sono, così, si sono cimentati nella nostra proposta. Negli ultimi anni, diciamo che io ed Elke Burul, scusate, io ed Elke Burul, che facciamo parte del direttivo di questa associazione, abbiamo preso un po' in mano la scelta dei titoli e anche curiamo spesso le messe in scena. E poi, anche in alcuni testi, siamo anche interpreti. Come nasce? Nasce così, per questa volontà. Certo. Come cresce? Cresce dalla passione del pubblico stesso, dal seguito del pubblico. In un primo momento, gli abbonati alla Contrada, che fortunatamente sono ancora numerosi e lo sono sempre stati, o meglio, sono cresciuti anche loro nel tempo, hanno gradito questa forma, questa proposta teatrale, un po' insolita, un po' diversa, e hanno continuato, sono cresciuti nel tempo, dandoci la forza di crederci sempre e di continuare. E quindi è un'associazione molto semplice, in realtà, insomma, si tratta solo di... Noi poi curiamo anche altre piccole iniziative, però il nostro, il grosso del lavoro, si concentra sulla proposta di sei titoli a stagione. Vabbè, ma come dice la denominazione stessa, amici, nel senso che comunque... Io so, perché la conosco molto bene, la vostra realtà, e ringrazieremo sempre Livia di tutte le cose che ci porta anche qui a Radio Fragora, C'è proprio questo rapporto di amicizia che si crea proprio con il pubblico, che è una cosa fondamentale, nel senso che il pubblico propone anche, il pubblico si esprime da pareri, positivo e negativo, ma comunque vuol far crescere il proprio teatro. Assolutamente. C'è sempre stato un grande legame, perché è nato come teatro popolare ancora adesso questa dicitura, Livia Mabilino, che è la presidente della Contrada, sto parlando della Contrada, ci tiene a mantenere con il proprio pubblico. Infatti lo sforzo è di dare, di offrire al pubblico una drammaturgia e contemporanea e classica, ma sempre con temi che comunque coinvolgono il nostro pubblico, insomma. Chiaro. E senza poi rinnegare neanche il divertimento che uno cerca andando a teatro, no? Adesso, no, sto pensando allo spettacolo che ha debuttato ieri sera, Fullin, Alessandro Fullin, con Ariella Reggio, che è la regina, la colonna del teatro La Contrada, e Marzia Postogna, insomma, ovviamente è un titolo, è uno spettacolo molto, molto divertente. Bene, 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 bene. Allora, Alan, tu vuoi aggiungere qualcosa? Cosa vogliamo... Allora, ho una domanda, ma insomma, se vuoi, passiamo, parliamo prima del primo spettacolo. No, mi chiedevo, siccome leggendo un po' le note della cartella stampa, ma in realtà anche pensando, insomma, a quello che il teatro legge, io pensavo che, come dite voi, la lettura scenica è una tecnica teatrale solo apparentemente semplice, anche perché c'è tutta una parte di adattamento, ovvero mancando i movimenti scenici, mancando una scenografia, mancando tutto questo genere di apparato visivo, mettiamola così, deve esserci un adattamento ancora più forte del testo. Molto, molto giusto. Se volevi dirci due parole su come, un po' come funziona appunto l'adattamento, come, che lavoro c'è dietro a quello che poi vedremo in scena. In scena, grazie. L'adattamento è a cura dei registi, no? Che curano tutto il coordinamento, l'impianto, il titolo, eccetera. Quindi, in questo momento, lunedì, appunto, debutterà Elke, e Elke ha preso questo sguardo dal ponte di Henry Miller, e lo ha ben studiato, e dopo ha cercato di adattarlo appunto alle nostre esigenze, quindi con tagli, con raccordi, a volte con tagli di personaggi proprio, però la difficoltà grande nostra, mia e di Elke in questo caso, in questa stagione, anch'io lo sto facendo per il secondo titolo, che è Un giardino di aranci fatto in casa, che è una commedia, non è proprio una commedia da sganasciarsi dalle risate, ma è di Il Neil Simon. Quello che ho fatto io, e che credo faccia anche Elke, è cercare di mantenere una linea, una linearità del testo, che la storia passi, che il cuore della storia creata dall'autore non venga snaturato assolutamente, dobbiamo rimanere molto fedeli, vogliamo essere fedeli, però è anche un divertimento nostro cercare di adattare i tempi, soprattutto i ritmi che noi portiamo in scena, perché la lettura scenica non possiamo permetterci di fare dei monologhi lunghissimi, oppure di lasciare troppi personaggi, perché andrebbero ad inficiare un po' sempre la produzione, il ritmo della storia che andiamo a presentare, però questo è anche il nostro divertimento, la nostra soddisfazione, quando poi lo spettacolo o la lettura, come la volete chiamare, crea lo stesso un rapporto, un clima molto denso con il pubblico. Noi, insomma, si sa che l'attore sul palcoscenico vive il momento del testo, della recitazione, chiamiamola così, il momento attoriale, ma c'è un grandissimo ascolto col pubblico e l'attenzione del pubblico durante le letture sceniche non scema mai, cioè non cala mai, non va mai calando, anzi è sempre molto forte, e questo bisogna crearlo appunto, tenere il pubblico con la comprensione del testo e con la linearità della storia, insomma. Non so se sono stata chiara perché così sono un po' in rispondo a braccio, insomma. No, vabbè, giustamente, chiarissimo, è tutto ben spiegato, grazie. Grazie a voi. Allora, cominciamo dai, cominciamo da quello che è il primo appuntamento, quello di lunedì prossimo, con appunto, dicevi tu, con la legia di Elke Burul, alle 17.30, cominciamo a dare un po' di orari anche. Sì, questo è un orario, come dire, storico, a cui gli abbonati dell'associazione, i soci, diciamo, gli amici della contrada, sono molto legati e quindi noi cerchiamo di mantenere, insomma. Quindi, 17.30, uno sguardo dal ponte. E qui chiedo al nostro regista Adam, poi, di far partire anche un po' quelle che sono le immagini degli attori, degli interpreti di questa operazione. Daniela Saltogo, la nostra mitica, ci ha mandato un po' di immagini. Lei, poverina, l'assommergo di richieste tutte le volte. Il nostro ufficio stampa. L'assommergo di richieste perché non è che siamo una radio, noi vogliamo fare la radio, la televisione, questo e quell'altro. Adesso con i social, poi. Eh, i social. Stanno prendendoci, ci prenderanno tutti quanti. Si sostituiranno. Allora, Henry Miller, appunto, è un titolo importante, come si diceva. Uno sguardo dal ponte. Il ponte è quello di Brooklyn. È un titolo importante perché vede in scena sei attori. La stessa Elke Burul, che ha curato, appunto, adattamento, regia, coordinamento degli attori e tutto quanto, e che ha scelto con sé sul palco gli attori Maurizio Zacchigna, Valentino Pagliei, Lorenzo Zuffi, e poi per la prima volta, credo, a Teatro Leggio con noi, Ilaria Marcucilli e Alejandro Bon, che sono due giovani diplomati dell'Accademia Nico Pepe. Non ricordo se questa stagione, la scorsa stagione, però sono molto giovani, ma molto, molto bravi, attivissimi nel campo teatrale, cittadino, regionale, non solo, perché so che hanno in attivo moltissimi progetti, molto bravi e quindi sono molto contenta. Ilaria è anche una che ha girato un po' l'Italia e il mondo, nel senso che tra le varie cose, sì, parte la sua permanenza a Roma, poi è andata a Madrid, insomma, ha fatto tantissime esperienze in ambito teatrale. Pur così giovane. Pur così giovane, e poi ritornando qua a Trieste, volendo fare delle cose importanti qui in città, insomma. Ma io l'ho vista quest'estate in scena con Fake Dante, che era una produzione mista di diversi teatri, e mi aveva colpito la sua grandissima energia scenica, non la conoscevo assolutamente e quindi proprio mi aveva colpito. Alejandro invece lo conosco un po' di più, perché lui è di Trieste, è un ragazzo eccezionale, bravissimo e anche un bravo attore, insomma poi lui fa parte anche del gruppo Arti Fragili, con Davide Rossi e Omar Mahouli, e sono tre anche loro fantastici, perché sono pieni di progetti e sono bravi anche a realizzarli, che non è facile in questo campo. Eh sì, e poi ci servono i giovani, sono fondamentali. Eh beh, certo, certo, assolutamente, se no noi, anzi, ti dirò che questa associazione è seguita appunto dagli abbonati, eccetera, però a noi farebbe piacere quello che io mi auguro insieme a tutto il direttivo, a tutti quelli che amano l'associazione, che i giovani iniziassero a frequentare i nostri leggi, così come li chiamiamo in gergo, in maniera più assidua e non così saltuariamente, no? Che diventassero anche essi soci, anche grazie all'accessibile prezzo che dopo Alan illustrerà. L'istituzionale è lui. Comunque scusate, io sono una grandissima divagatrice, oltre che parole crociate, anche divago, divago moltissimo, e quindi mi sono levata dal focus che era lo sguardo dal ponte. E quindi questi sei attori in scena guidati da Elke Burul, la storia si ambienta a fine anni 40 nella Brooklyn, New Yorkese ovviamente, è una storia di una comunità di immigrati siciliani, italiani, ed è una storia di passioni un po' torbide, un po' anche insane, diciamo, ed è una storia appunto così, un po' una dinamica familiare scomoda, all'interno della Brooklyn di quegli anni. E quindi è molto interessante, come tutte le vicende narrate da Miller, no? Certo, 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 è un testo importante, è un testo difficile. È un testo difficile, è difficilissimo, però io sono certa che i nostri sapranno renderlo al meglio. Allora Alan, vuoi fare subito l'istituzionale per lunedì stesso? Sì, allora in realtà io stavo notando che non ho i prezzi, ho solo la... Allora lo posso dire io, è facile, è facile. Sì, perché non ce l'ho sulla cartella stampa, scusatemi. Allora, il prezzo per associarsi a questa associazione e quindi ad avere diritto all'ingresso poi di tutte quante le iniziative organizzate dall'associazione stessa, in primis i sei titoli che proponiamo per ogni stagione, è di 17 euro per gli abbonati della contrada e di 20 euro per chi volesse approcciarsi. Per tutti gli spettacoli. Per tutti gli spettacoli. Direi che è... Siete peggio di Amazon Prime. Come costi? Potremmo anche includerci qualcos'altro, ma al momento basta. E no, perché proprio è nata appunto come una sorta di, non dico regalo, ma insomma una coccola per i nostri abbonati. Perché gli abbonati ci sono stati sempre molto vicini, perché comunque è seguita questa rassegna. E pertanto così, questi 17 euro. Poi i 20 euro perché non potevamo discriminare troppo. Ma chiaro, solamente una piccola differenza. Esatto, esatto. Comunque speriamo di avere sempre nuovi soci e giovani. Così noi saremo anche stimolati a trovare titoli, perché stiamo cercando di studiare, così di esplorare la drammaturgia contemporanea, che spesso anche è curata da giovani autori, no? Chiaro, 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 chiaro. Vuoi aggiungere tutto il discorso? Quello che posso dire è sicuramente che rinnovi e nuove adesioni vengono accolte al Teatro Bobbio ogni pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30. Sarà possibile tesserarsi anche nelle giornate delle letture di Teatro Aleggio, ma passativamente dalle 16 alle 17.00. Tutte le informazioni le potete trovare sulla pagina dedicata all'associazione, sul sito contrada.it. Grazie, perfetto. Hai capito perché? Mamma mia, che pulizia, che... Abbiamo ancora un minutino. Solo un accenno, poi tanto ci rivediamo qua, sulle altre tappe. Sì, allora, lunedì 25 ottobre, sguardo dal ponte, lunedì 15 novembre, un giardino di aranci fatto in casa, che è una commedia, come dicevo prima, di Neil Simon, e Neil Simon autore di testi famosi, forse il più famoso a piedi nudi del parco. Questo è un po' meno rappresentato, questo titolo, ma è molto coinvolgente, molto coinvolgente perché tratta di una dinamica strettamente familiare, anche questa, con toni meno così, molto meno cupi dello sguardo dal ponte. Lunedì 24 gennaio, Il Dubbio di Shenley, Altro titolo bellissimo, un testo inedito, mai fatto nella nostra rassegna, è pochissimo rappresentato in Italia anche, e forse il pubblico, il grande pubblico, lo conosce grazie al film interpretato da Mary Strie. Esatto. Poi avremo lunedì 14 febbraio, San Valentino, Da giovedì a giovedì, una commedia di De Benedetti, che spesso invece è presente nella nostra rassegna. 24 marzo, lunedì sempre, Art di Jasmine Reza, che abbiamo proposto due stagioni fa con Il Dio del Massacro, Carnage, ho chiamato anche Carnage, e a me è piaciuta molto, l'ho curata io personalmente, quindi mi sono affezionata a lei come drammaturga e ho voluto riproporla anche per questa stagione, Art, che è un'altra storia, naturalmente sono tre fratelli che si ritrovano dopo la scomparsa del loro padre. E poi chiudiamo lunedì 11 aprile con Sinceramente bugiardi di Ikeburn, che anche questo è un titolo molto interessante, e speriamo, insomma, anzi contiamo che ad interpretarlo, tra gli altri ci sarà anche Ariella Reggio. Ottimo, bene. Grande. Siamo ancora in trattative. Siete in trattative? Siamo in trattative. No, ma perché lei, Ariella, è pienissima di impegni, cinema, televisione, teatro, è veramente una forza della natura. Va bene. Allora, noi ci vediamo presto, anzi ci vediamo lunedì per questo debutto, questo debutto della stagione dedicata agli amici del teatro della Contrada. E Daniele, ti ringraziamo tantissimo. Grazie a voi, grazie a voi, e sono felice se vi vedrò in platea. Lunedì ci sarò sicuramente ad accogliervi. e ad accogliere tutti. Vi aspettiamo numerosi. Venite, venite a stare insieme a noi, a vivere queste storie meravigliose. Grazie infinite. Un po' di musica, il cambio di coprimicrofono, e poi con noi... Con noi Max Maltoni che ci parlerà del Festival di Fantascienza, perché è giunta l'ora del Festival della Fantascienza. È giunta l'ora, mi piace tantissimo. Grazie a tutti. 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 Sto cambiando i fogli e sto entrando nell'ottica del prossimo ospite. E combini. Eh, ma perché qui tra le sanificazioni, il cambio dei coprimicrofoni... Dillo, dillo, dillo che noi le facciamo queste cose... Dillo, dillo che noi le facciamo queste cose... Nonostante tutto, noi continuiamo in perterriti a fare le cose fatte per bene. Eh beh, giustamente. Ecco, va bene. Detto questo, passiamo a qualcosa di più interessante. Detto questo, facciamo a qualcosa di più interessante. Come accennavo prima della canzone, torna al Festival della Fantascienza, torna al Trieste Science Plus Fiction, ventunesima edizione di questo nuovo ciclo. E, vabbè, per fortuna torna dal vivo, torna in presenza soprattutto. Al cento per cento. Al cento per cento. In realtà c'è una parte anche virtuale. Adesso ci racconterà tutto quanto il nostro ospite Max Maltoni, che è uno dei selezionatori del Festival. Ciao. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Quindi, siamo di nuovo in presenza, per fortuna, dopo l'anno scorso che il Festival avrebbe dovuto essere in presenza e poi all'ultimo avete dovuto spostarlo tutto sul web. Quest'anno si ritorna nella sala e si ritorna di nuovo in quella cornice splendida che è il Politeama Rossetti. Sì, ritorniamo a casa, diciamo così. Ci fa molto piacere tornare a gridare assieme fisicamente, assieme al nostro pubblico, i raggi fotonici, a mostrare i nostri film su grande schermo. Anche se poi in realtà, l'anno scorso, diciamo che un'altra casa l'abbiamo trovata, che è quella della dimensione digitale della piattaforma My Movies e poi il Sci-Fi Club, che è un progetto a cui abbiamo dato vita all'inizio di quest'anno per dare al nostro pubblico la possibilità di rivedere i film delle selezioni passate del Festival, di creare una sorta di archivio permanente e il Sci-Fi Club ospiterà anche le proiezioni digitali, un'ampia selezione di quello che il pubblico poi vedrà nelle sale del Politeama Rossetti e del Cinema Ariston. Esatto, sì, quest'anno è stata scelta come seconda, come altra sala, giustamente ieri Francesco ha detto, e non piace chiamarla seconda sala, ma diciamo l'altra sala, il Cinema Ariston, semplicemente per un fatto di comodo perché il Miela è ancora in ristrutturazione. Posso interrompere un attimo? Sì, debbi. No, perché sto per fare un gran casino, lo so, come il mio solito, però visto che io praticamente farò scena muta per tutta questa prossima mezz'ora, e tu non vedi Max e Max non vedete. Ma no, no, vabbè, tranquillo. Facciamo una cosa velocissima, guarda. Ma no, ma perché? Aspetta un attimo, e tanto ci vedono, per cui sanno quello che stiamo facendo, facciamo un cambio posto proprio. Va bene, allora aspetta un attimo. In modo tale, scusami, perché mi sembrava logico, perché Max guardando me parli te, cioè non ha senso tutto ciò. Aspetta, eh. Vai, 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 ci sarà il buon Adam che ci sta veramente maledendo in questo momento, ma noi siamo belli che sistemati, vai. Adesso vedo l'amico Max, ciao. Hola. Allora, quindi sì, appunto si diceva il teatro Miela è ancora in ristrutturazione, quindi l'altra sala sarà il cinema Ariston, che insomma è sempre stato, insomma, è il cinema di Cappella Underground, quindi insomma è forse la sede naturale da usare come seconda sala. Beh, direi di sì, insomma, è stata una scelta che comunque abbiamo fatta in maniera estremamente naturale, insomma. Chiaro. Niente, raccontaci un po' il festival, cominciamo a scoprire un po' quello che è il programma di quest'anno. Ma innanzitutto festeggiamo questo ritorno nelle sale con un'edizione che è veramente, ma veramente ricca. Forse è una delle più ricche degli ultimi anni della nostra storia. I film sono tantissimi, abbiamo 40 lungometraggi e 38 cortometraggi. I lungometraggi naturalmente organizzati nelle sezioni tradizionali, ovvero sia una selezione di film in concorso, che concorrono per il premio Megliè d'Argento, organizzato in collaborazione con la Megliès International Festival Federation, di cui siamo membri, e anche naturalmente le grandi anteprime fuori concorso, il consueto osservatorio sulle nuove tendenze del cinema italiano di genere fantastico, ovvero sia Spazio Italia, le esplorazioni fantascientifiche di mondo futuro, i classici, una bellissima retrospettiva dedicata al cinema svizzero fantastico. Insomma, chi più ne ha più ne metta, direi. Sì, decisamente c'è tanta roba, ci sono anche quattro mostre, ci sono degli spettacoli dal vivo, quindi sì sì, nonostante tutto, mettiamola così, siete riusciti a creare un ottimo festival anche quest'anno. Ti ringrazio di questa tua affermazione, speriamo di poter, come posso dire, rispondere a quelle che sono le curiosità e le aspettative anche del nostro pubblico. Indubbiamente. Io vorrei cominciare, già che ci siamo, con una cosa che mi raccontavi ieri, che è accennato anche in conferenza stampa, che però mi sembra interessante, proprio per dare uno sguardo complessivo su quelli che sono i film, ovvero come tantissimi registi, nel momento in cui è stato chiesto di dire due parole sul film, di presentare il film, hanno detto che è un film nato dalla pandemia, che non vuol dire che parla di pandemia, perché poi i temi sono i più disparati, ma che, volendoli guardare un po' in trasparenza questi film, si capisce che sono film fatti con pochissime persone, in una sola location, con comunque un dispiego di mezzi estremamente limitato, proprio perché evidentemente fatti in un periodo in cui non si poteva fare altrimenti. Certo, e la cosa poi da sottolineare, ovviamente, non a discapito del risultato artistico finale, naturalmente. Certo, è abbastanza... siamo rimasti un po' sorpresi, anche noi, dal sentire parecchi registi dei film che abbiamo selezionato definire il proprio lavoro come un film pandemico. Però dobbiamo anche pensare, lo dice anche Ben Wheatley, in una dichiarazione, Ben Wheatley, di cui abbiamo in anteprima italiana il suo ultimo film fuori concorso, In The Earth, Ben Wheatley, in un'intervista, diceva è difficile per un regista che fa un film nel 1946 non parlare della Seconda Guerra Mondiale o non tener conto che prima c'è stata la Seconda Guerra Mondiale. E da questo punto di vista, ovviamente, abbiamo dei registi che hanno pensato ai loro film, li hanno scritti e li hanno realizzati, realizzati, ispirati più o meno dalla contingenza storica, da quello che succedeva attorno a loro, ma questo è una cosa che avviene anche normalmente, ma anche pensandoli di doverli girare in un modo completamente diverso. Non conosciamo chiaramente la verità, ma mi piace anche forse pensare che questo tipo di film, probabilmente in una situazione diversa, non sarebbero neanche nati o sarebbero stati fatti in maniera completamente diversa. E quindi è abbastanza, come posso dire, particolare questo momento che ha portato chiaramente anche il cinema a ripensarsi. Sì, immagino anche che certe volte ci siano state anche delle idee di regia magari un po' più innovative rispetto al solito, proprio per ovviare al fatto di di non poter fare delle scene in esterno, non poter fare delle scene con numerose persone o insomma mille cose del genere. Allora magari forse, forse, nella drammeticità che abbiamo vissuto, un minimo di buono nello stimolare la fantasia e l'ingegno dei registi c'è stato. Sì, diciamo che c'è stato un differente impulso al processo creativo che dà vita ai film e che poi si è dovuto necessariamente tradurre in un processo produttivo e anche poi in un processo distributivo differente da come eravamo abituati. Insomma, anche il mondo del cinema, l'industria del cinema, le dinamiche dell'industria cinematografica sono cambiate radicalmente nell'ultimo anno e mezzo. Chiaro. Dai, raccontaci un po' qualcuno di questi film. Poi i film sono talmente tanti che è impossibile parlare di tutti, ma insomma dacci un paio di chicche dei film più interessanti che possiamo andare a vedere. Ma allora, naturalmente, tutti i film della nostra selezione sono interessanti. Di solito si parte dall'inizio, per cui iniziamo dal nostro film d'apertura, che è un film di fantascienza francese con Jean Reno, che si chiama The Last Journey. È un bel film europeo, o lo definirei europeo, nel senso che non va a correre dietro alla tradizionale estetica della fantascienza che è un po' americanizzata da un certo punto di vista. È un, come dicevo, un film di pura fantascienza, per cui speriamo di accontentare in questo anche la fanbase, dove ci troviamo in un mondo futuro, chiaramente no, però, un mondo futuro dove il regista si immagina una imminente catastrofe ambientale e bisogna in qualche modo porre rimedio. Quindi è un curioso road movie di fantascienza, con delle bellissime vecchie Peugeot 504 che volano. È veramente un film che abbiamo voluto fortemente anche lo scorso anno, ma purtroppo con il passaggio al digitale non c'è stato possibile proporlo al pubblico e siamo felici finalmente di poterlo mostrare. No, volevo approfittare del fatto della tematica ambientale per ricordare un po' che comunque il festival è sempre stato da anni legato alle tematiche green. Quest'anno ancora di più. Ci sono tutta una serie di accorgimenti che avete fatto per mantenere il festival il più verde possibile e in questo ci sarà anche una mostra che proprio si chiama Ecocalipse, che è questo gioco di parole tra apocalisse ed ecologia che va verso quella direzione. Sì, quest'anno saremo un festival green è un processo in realtà che abbiamo iniziato già da qualche anno nella scelta dei materiali, degli allestimenti e che quest'anno sarà ancora più volto in questa direzione. Tutto nasce da un progetto all'interno dell'associazione Festival Italiani di Cinema, l'Afici di cui facciamo parte, per creare un protocollo per i festival green. Si parte dal presupposto che qualsiasi impresa, qualsiasi anche culturale, ha un impatto ambientale. Giustamente. E quindi con le buone pratiche, l'attenzione e tutto quanto, possiamo far sì che anche gli eventi culturali siano eventi sostenibili per il pianeta, per cui inviteremo anche il nostro pubblico a bere e a procurarsi l'acqua dalle fontanelle, con le loro borracce. Non ci offendiamo se non comprate le nostre, anche se sono inevitabilmente più belle, però comunque sarà tutto anche quello che proporremo agli ospiti, a livello di cibo. Sono tutte tante piccole cose che non ti vengono in mente, ma in realtà qualsiasi cosa ha un impatto ambientale. e quindi abbiamo intrapreso questo percorso e speriamo di trovare anche dal pubblico collaborazione in questo senso, perché tutti naturalmente dobbiamo fare qualcosa. Poi è chiaro, la fantascienza ci aiuta a parlare di questi temi e quindi non sono una novità per il nostro festival. Decisamente no, mi ricordo insomma sono già parecchi anni che sul vostro programma c'è un simbolino apposta per indicare esatto, per indicare quelli che sono i film con tematiche green. Torniamo ai film, torniamo a parlare di cosa vedremo in questi giorni. Tra l'altro, scusa, non l'abbiamo detto, il festival si svolge da mercoledì 27 ottobre a mercoledì 3 novembre al Politeama Rossetti fino al primo di novembre e poi invece in realtà fino al 3, anzi addirittura fino al 4, perché poi il 4 sarà una giornata di repliche al Cinema Ariston. Sì, come diceva, è un festival ricco e anche un festival molto lungo. Quest'anno sì, bisogna dire che sì. Sono tanti giorni di film e di incontri. Il film di chiusura, così per chiudere diciamo la cornice di poi quello che il pubblico vedrà all'Rossetti, all'Ariston, è l'ultimo capolavoro di Abel Ferrara, The Lost and Once, vincitore del primo della regia al Festival di Locarno. Questo sarà il film di chiusura a Rossetti, il primo di novembre. Il film che invece chiuderà i battenti del festival il 3 novembre, mercoledì, al Cinema Ariston è finalmente, come posso dire, un film molto atteso, Mad God, il film di Phil Tippett realizzato interamente a passo 1, con un'animazione a passo 1 di cui Phil Tippett, ricordo anche, nostro ospite, nostro premio nella carriera nel 2019, è maestro. Ci ha messo 30 anni a farlo, finalmente lo possiamo mostrare sia al pubblico in sala che anche al pubblico che ci seguirà sul Sci-Fi Club dal divano. Molto bene, tra l'altro, ne approfitto, c'è un altro film d'animazione su qualcosa come 30.000 disegni può essere. Sì, c'è sia nel concorso Asteroide che Megliès, un film inglese si chiama Absolute Denial, è un film realizzato interamente a mano con 30.000 disegni realizzati in nove mesi di lockdown dal regista, ecco a proposito del discorso che facevamo prima, ed è un film che non parla assolutamente di pandemia, ma parla di una suggestione fantascientifica che ricorre da quasi da più di un secolo, ovvero sia l'ambizione dell'uomo di creare un super computer che sia in grado di imparare e generare poi un'intelligenza superiore con tutto quello che poi ne consegue e che abbiamo anche visto, qui andiamo in un'altra direzione naturalmente viene da pensare chiaramente al 9000 e beh, esatto, 2001 di Sea nello spazio ma anche a Mother di Alien quindi insomma è una suggestione fantascientifica di lunga di lunga tradizione che il regista Ryan Brown ha voluto riprendere in questa maniera c'è un altro film poi di animazione a passo 1 che è il giapponese Junkhead questo ci ha messo solo 7 anni a farlo e anche questo è un curioso esperimento cinematografico e siamo contenti di poterlo far vedere martedì questo al Cinema Ariston tra l'altro forse siccome hai citato Alien siccome hai citato curioso hai detto curioso esperimento mi piaceva volevo che tu citassi anche Alien on stage che secondo me potrebbe essere una cosa estremamente divertente questo è poi ti lascio parlare dei film più seri tra virgolette ma mi piaceva l'idea di parlare sì Alien on stage è un documentario che documenta scusate il gioco di parole forse quella che è l'operazione teatrale più folle mai messa in piedi un gruppo di attori dilettanti è una compagnia che nasce all'interno di un gruppo di dipendenti degli autisti degli autobus del Dorset decide di fare una trasposizione fedelissima teatrale naturalmente del film Alien fedelissima intendo anche con tutti quelli che possono essere i trucchi che abbiamo visto nel film naturalmente parlando di un teatro che va a svolgersi in maniera non professionistica è molto bello vedere come questi si siano arrabattati chiaramente per fare tutti i due per cui è una cosa molto molto divertente che abbiamo pensato di offrire al nostro pubblico nel mercoledì 3 novembre giorno di San Giusto per per divertirci un po' ma anche per riflettere un po' perché chiaramente dietro alle storie di 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 questa operazione teatrale ci sono anche le storie di chi di chi l'ha messa in piedi insomma giustamente qualche altro più imperdibile degli altri già imperdibili ma abbiamo la bellissima selezione credo di fuori concorso che è capitanata da questo film coreano che si chiama Spirit Walker che è una delle esclusive che ha il festival quest'anno abbiamo conosciuto anche grazie ai trionfi recenti e ai grandi festival del cinema coreano comunque cinema coreano i coreani sono maestri probabilmente in quello che viene definito un action drama questo film è uno straordinario e adrenalinico action drama ma il regista si è divertito a giocare con il pubblico inserendo un elemento sovrannaturale abbiamo lo citavo prima il film di Ben Wheatley abbiamo una splendida anteprima che è Annette di Leo Carà l'ultimo capolavoro di Leo Carà che ha aperto il festival di Cannes tra i film in concorso abbiamo un'opera italiana coproduzione italiana-argentina il Nido che presentiamo in in anteprima mondiale addirittura e poi abbiamo tutta una serie come sempre chiaramente di viaggi all'interno delle varie declinazioni del cinema fantastico dalla fantascienza più o meno smaccata che ci viene offerta da un film come ad esempio Warning a suggestioni più intimiste di film come ad esempio Flashback un western fantascientifico che è Settlers ambientato in un futuro lontanissimo in cui l'umanità è andata a colonizzare a colonizzare Marte abbiamo un curioso film di vampiri che viene dalla Serbia abbiamo veramente chi più ne ha più ne metta mi piace sottolineare all'interno di questa selezione di 13 film in concorso che ben 5 sono girati da registe donne giusto gli sguardi al femminile all'interno del cinema di genere fantastico sono per fortuna sempre sempre di più in un genere che normalmente lasciava un po' poco spazio alle 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 registe donne siamo siamo molto contenti di questo abbiamo Witch Hunt di Elle Calhoun che tra l'altro sarà sarà con noi Pink Cloud della regista brasiliana Julie Gerbase anche lei sarà con noi Night Raiders è una bellissima distopia su una società futura dove i protagonisti sono una comunità di indigeni canadesi la stessa regista è membra di questa di questa comunità ci sono veramente tante tante suggestioni fantascientifiche che vengono anche da sguardi da sguardi femminili sono sicuro che il pubblico le apprezzerà abbiamo anche poi film molto più divertenti come Let the wrong one in non so se questo titolo vi suona Let the wrong one in c'era un famoso film svedese di vampiri lasciami entrare il titolo originale era Let the right one in ed è un divertentissimo film di vampiri anche questo chiaramente girato in tempi di pandemia dove qualche appassionato della serie Buffy la matta vampiri riconoscerà uno dei protagonisti molto bene si tra l'altro tu l'hai detto un po' così parlando dei film ma insomma ricordiamo che comunque ci sono un sacco di anteprime se non mondiali almeno italiane quindi c'è sempre una ricerca da parte vostra di comunque portare titoli che non sono che non sono visti e che comunque sono appunto arrivano qui in esclusiva si si le anteprime quest'anno sono veramente tantissime tra corti e lunghi le anteprime italiane sono 44 le anteprime mondiali sono addirittura 5 beh benone i paesi che che vanno a comporre tutto questo mosaico fantascientifico sono addirittura 23 cioè i film provengono da 23 paesi del mondo del mondo diversi allora io citerei più veramente come titoli lo faccio io i restauri che sono anche là qualcosa di eccezionale sono i 40 anni di un lupo manaro americano a Londra di John Landis e sono sempre i 40 anni di 1997 fuga da New York di John Carter come passa il tempo esatto sono due capolavori e sono due film che nonostante gli anni sono sempre ancora attualissimi e sono i 50 anni dell'uomo che fuggì dal futuro che è il film di esordio di George Lucas invece raccontaci qualcosa di degli spettacoli degli incontri dal vivo so che c'è un incontro con Sabina Guzzanti insomma c'è della roba molto interessante anche da quel punto di vista non solo film insomma no certo come da tradizione del nostro festival sì avremo un incontro pubblico con Sabina con Sabina Guzzanti che è ospite del nostro festival in qualità di membro della giuria del premio asteroide la Guzzanti presenterà il suo romanzo per cui conosceremo anche l'artista Sabina Guzzanti in una dimensione diversa siamo abituati a pensarla come regista o come attrice televisiva e cinematografica in questo caso conosceremo una Sabina Guzzanti scrittrice che ha realizzato questo ha scritto questo romanzo che si chiama 219 la disfatta dei sapiens è una visione futura molto chiaramente nelle corde di Sabina cioè molto chiaramente satirica ironica eccetera lo presenterà al pubblico domenica 31 ottobre alle 17.30 all'Ariston e poi avremo il 3 novembre alle 16 alle 18 scusate sempre all'Ariston un incontro spettacolo di un divulgatore scientifico al top come Luca Perri che affronterà assieme al pubblico quella che è la scienza di guerra stellare ovvero sia che cosa c'è fondamentalmente di vero o no in tutto quello che vediamo nei film di fantascienza oppure ancora più paradossalmente se volessimo oggi costruire il Millennium Falcon quanto costerebbe ma funzionerebbe poi veramente è uno spettacolo molto molto divertente che ci fa vedere anche i film di fantascienza da un punto di vista diverso chiaro noi siamo praticamente in chiusura ci ricordi velocemente come ci si può cioè come si può andare a vedere quali sono le date insomma le cose un po' tecniche del film poi scusatemi del festival poi ovviamente rimandiamo per tutto al sito che è sciencefictionfestival.org lì trovate la qualunque ma insomma se ci dai un paio di note tecniche lì si trovano chiaramente tutte le indicazioni sul sito del festival anche sui nostri canali social facebook instagram e twitter anche sul nostro canale youtube dove chiaramente non si recuperano le informazioni ma si potranno vedere parte delle attività anche che faremo durante il festival ovvero sia gli incontri scientifici di mondo futuro noi saremo di base al Politeama al Politeama Rossetti dove si potranno chiaramente acquistare i biglietti per assistere agli spettacoli la stessa cosa anche al cinema ariston ecco chiaro ci sono gli accrediti per cui se uno vuole guardarsi ci sono tutte varie tipologie di accrediti qui trovate tutte le informazioni sul nostro sito siamo ancora chiaramente aperti e quindi vi aspettiamo ricordiamolo dal 27 ottobre da mercoledì fino al mercoledì 3 novembre tra Politeama Rossetti e cinema ariston benissimo noi abbiamo finito grande ti ho finito in tempo anzi ci sta per prendere la linea radio popolare di fatto io ti stavo dicendo adesso come te la tira cavi con la tecnica adesso ci provo no non devi far niente la cosa meravigliosa è che noi proseguiamo noi salutiamo il nostro pubblico e diamo appuntamento per venerdì prossimo ringraziamo Max Maltoni ringraziamo tantissimo Max è la cosa che mi divertiva di più e andiamo oltranza finché a un certo punto arriverà a Red Popolare dicendo io tiro sulla leva con scritto PC e dovrebbe partire la sigla ci provo no ah l'hai già fatto partire l'hai già fatto partire ma sei bravo allora salutiamo ciao a tutti questa è la formazione così non faccio più niente così proprio in diretta votiamo grazie Max ciao